Ci troviamo all'interno di una delle perle della nostra provincia e oggi si aggiunge un altro tassello. Cosa accadrà all'interno dell'Arena? Allora, per il momento abbiamo sviluppato questa realtà complementare rispetto alla struttura che avevamo creato durante gli anni, che era unicamente destinata al gioco del polo. Questa struttura permette di allargare un pochettino la platea, aprendo il mondo dell'equitazione, per gli appassionati di cavallo la possibilità di fare saltostacoli, di giocare in maniera diversa, pure il polo, questo si chiama Arena Polo, e poi di fare del dressage. Ciò ci permette di essere più globali nell'offerta e nella nostra realtà. Questo è uno dei campi forse più importanti oggi d'Italia, già semplicemente questo campo perché ha una dimensione doppia rispetto agli standard normali e regolamentari. Noi ringraziamo Estra perché grazie ad Estra siamo riusciti a creare e a completare questo sogno. Estra ha dimostrato sin dall'inizio con il suo presidente una particolare sensibilità a questo contesto che abbiamo creato, a questo club in cui vi trovate oggi, cercando naturalmente di, non dico di divulgare il gioco del polo, perché rimane comunque una realtà molto selettiva e difficile pure da praticare. Però diciamo cercando di aprire, di allargare giustamente come dicevo la fascia d'utenza e di sensibilizzare soprattutto i giovani, questa è una regione totalmente evocata al mondo del cavallo e all'equitazione e in questo modo riuscire a completare quella che è l'offerta. Estra investe da sempre nello sport perché riteniamo sia uno dei veicoli più importanti per trasferire alla collettività i valori che vogliamo esprimere. Il Polo Club Villa Sesta di Tattoni è un'eccellenza a livello europeo, è tra le prime quattro, c'è un pregio naturalistico ambientale notevolissimo, quindi è un impianto che va fatto conoscere in provincia di Arezzo, va valorizzato a livello istituzionale, anche come Estra abbiamo fatto un investimento qui perché crediamo che questo impianto possa avvicinare molto di più anche il territorio che comunque ha delle tradizioni importantissime sull'equitazione in generale, sul cavallo in particolare e finalmente con questo impianto che abbiamo battezzato Estra Arena possiamo anche avvicinare questo sport bellissimo a generazioni che possono in maniera più abbordabile avvicinarsi a questa importante dinamica sportiva. Sì, è uno sport che ti avvicina al mondo del cavallo, il cavallo è un animale che richiede molta cura e molta attenzione, quindi credo che uno degli aspetti fondamentali di stare vicino a un cavallo è proprio il senso della responsabilità, il cavallo da solo non può vivere e quindi ha bisogno di costante manutenzione e gestione, quindi il fatto che fin da piccoli i giovani si avvicinano e si accudiscono un animale gli dà un grande senso di responsabilità anche per il futuro.